Novena a Maria che scioglie i nodi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Recitiamo l'atto di contrizione. Chiediamo perdono per i nostri peccati e soprattutto ci proponiamo di non commetterli mai più. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati perché pecando ho meritato i tuoi castighi e molto più perché ho offeso te infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Mio buon Gesù, che per me sei morto sulla croce, abbi pietà di me, perdona i miei peccati e dammi la grazia di non pecare mai più. Amen. Santa Maria, Madre di Dio e Vergine piena di grazia, tu sei con lei che scioglie tutti i nostri nodi. Nel primo mistero glorioso meditiamo la risurrezione di Gesù. Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla tomba, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via da sepolcro, ma entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite e avendo occhinato il volto a terra, essi dissero loro, perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'odato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, regina della pace, prega per noi. Nel secondo mistero glorioso vogliamo militare l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'odato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. o Maria, regina della pace, prega per noi. Nel terzo mistero glorioso vogliamo meditare la discesa dello Spirito Santo su Maria agli Apostoli. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento, che si abbatte Gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro cinque lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava a loro il potere di esprimersi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Settimo giorno sei la gloria di Gerusalemme, sei l'onore del nostro popolo. Madre Purissima, mi rivolgo oggi a te. Ti supplico di sciogliere questo nodo della mia vita. Nominarlo se possibile. e di liberarmi dall'influenza del male. Dio ti ha concesso un grande potere su tutti i demoni. Oggi rinuncio ai demoni e a tutti i legami che ho avuto con loro. Proclamo che Gesù è il mio unico Salvatore e il mio unico Signore. O Maria che sciogli i nodi, schiaccia la testa del demonio. Distruggi le trapole provocate da questi nodi della mia vita. Grazie, Madre tanto amata. Signore, liberami con il tuo prezioso sangue. Maria che sciogli i nodi, prega per me. Nel quarto mistero glorioso vogliamo meditare l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Tutte le generazioni mi chiameranno Beata, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù di Giuseppe e di Maria. O Gesù perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria regina della pace prega per noi. Nel quinto mistero glorioso vogliamo meditare l'incoronazione di Maria Vergine regina del cielo e della terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga al tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli Amen L'odato sempre sia il Santissimo nome di Gesù di Giuseppe e di Maria O Gesù perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia O Maria Regina della pace prega per noi salve regina madre di misericordia vita dolcezza speranza nostra salve a te ricorriamo esuli figli di Eva a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime orso dunque avvocata nostra rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù il frutto benedetto del tuo seno o clemente o pia o dolce vergine maria litanie lauretane signore pietà signore pietà cristo pietà cristo pietà signore pietà signore pietà cristo ascoltaci cristo ascoltaci cristo esaudiscici cristo esaudiscici padre del cielo che sei dio abbi pietà di noi figlio redentore del mondo che sei dio abbi pietà di noi spirito santo che sei dio abbi pietà di noi santa trinità unico dio abbi pietà di noi santa maria prega per noi santa madre di dio prega per noi santa vergine delle vergini prega per noi madre di cristo prega per noi madre della chiesa prega per noi madre della divina grazia prega per noi madre purissima prega per noi madre castissima prega per noi madre sempre vergine prega per noi madre immacolata prega per noi madre amabile prega per noi madre ammirabile prega per noi madre del buon consiglio prega per noi madre del creatore prega per noi madre del salvatore prega per noi vergine Prudentissima prega per noi. Vergine degna di onore prega per noi. Vergine degna di lode prega per noi. Vergine potente prega per noi. Vergine clemente prega per noi. Vergine fedele prega per noi. Specchio di perfezione prega per noi. Sede della sapienza prega per noi. Causa della nostra letizia prega per noi. Tempo dello Spirito Santo prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria prega per noi. Dimora tutta consacrata Dio prega per noi. Rosa mistica prega per noi. Torre di Davide prega per noi. Torre d'Avorio prega per noi. Casa d'Oro prega per noi. Arca dell'Alleanza prega per noi. Porta del cielo prega per noi. Stella del mattino prega per noi. Salute degli infermi prega per noi. Rifugio dei peccatori prega per noi. Consolatrice degli afflitti prega per noi. Aiuto dei cristiani prega per noi. Regina degli angeli prega per noi. Regina dei patriarchi prega per noi. Regina dei profeti prega per noi. Regina degli apostoli prega per noi. Regina dei martiri prega prega per noi. Regina dei confessori della fede prega per noi. Regina delle vergini prega per noi. Regina di tutti i santi prega per noi. Regina concepita senza peccato originale prega per noi. Regina assunta in cielo prega per noi. Regina del santissimo rosario prega per noi. Regina della famiglia prega per noi. Regina della pace prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo perdonaci Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo ascoltaci Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Prega per noi. Prega per noi. Santa madre di Dio. E saremo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Signore Dio conceda a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo e per l'intercessione della beata semprevergine Maria di essere liberati dalle angustie della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi pecatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera Maria che scioglie i nodi Vergine Maria, madre del bell'amore, madre che non ha mai abbandonato un figlio che grida aiuto. Madre le cui mani lavorano senza sosta per i suoi figli tanto amati perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore. Volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi della mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. sai quanto mi paralizzano questi nodi Maria, madre incaricata da Dio di sciogliere i nodi della vita dei tuoi figli. Ripongo il nastro della mia vita nelle tue mani. Madre Onnipotente, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo ed ora, se possibile, nominarlo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli il mio richiamo, preservami, guidami, proteggimi, sii il mio rifugio. Maria che sciogli i nodi prega per me. Madre di Gesù e madre nostra, Maria Santissima, madre di Dio, tu sai che la nostra vita è piena di piccoli e grandi nodi. Ci sentiamo soffocati, schiacciati, oppressi e impotenti nel risolvere i nostri problemi. Ci affidiamo a te, Madonna di pace e di misericordia. Ci rivolgiamo al Padre per Gesù Cristo nello Spirito Santo, unite a tutti gli angeli e santi. Maria, incoronata da dodici stelle, che schiacci con i tuoi santissimi piedi la testa del serpente e non ci lasci cadere nella tentazione del maligno, liberaci da ogni schiavitù, confusione e insicurezza. Dacci la tua grazia e la tua luce per poter vedere nelle tenebre che ci circondano e seguire la giusta strada. Madre generosa, ti presentiamo supplichevoli la nostra richiesta d'aiuto. Ti preghiamo umilmente, sciogli i nodi dei nostri disturbi fisici e delle malattie incurabili. Maria, ascoltaci. sciogli i nodi dei conflitti psichici dentro di noi, la nostra angoscia e paura, la non accettazione di noi stessi e della nostra realtà. Maria, ascoltaci. Sciogli i nodi nella nostra possessione di diabolica. Maria, ascoltaci. Sciogli i nodi nelle nostre famiglie e nel rapporto coi figli. Maria, ascoltaci. Sciogli i nodi nella nostra sfera professionale, nell'impossibilità di trovare un lavoro dignitoso o nella schiavitù di lavorare con eccesso. Maria, ascoltaci. Sciogli i nodi dentro la nostra comunità parrocchiale e nella nostra chiesa che è una, santa, cattolica apostolica. Maria, ascoltaci. Sciogli i nodi fra le varie chiese cristiane e confessioni religiose e dacci l'unità nel rispetto delle diversità. Maria, ascoltaci. Sciogli i nodi nella vita sociale e politica del nostro paese. Maria, ascoltaci. Sciogli tutti i nodi del nostro cuore per poter essere liberi di amare con generosità. Maria, ascoltaci. Maria, che sciogli i nodi, prega per noi tuo figlio Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. E concludiamo questa preghiera tracciando su di noi il segno della croce. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Aiutaci a diffondere la preghiera. Iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per ricevere le preghiere pubblicate. Fai il passaparola con i tuoi amici su Facebook ed altri social. Ti ringraziamo e che il Signore ti benedica.